La legge della capolista colpisce anche al Città degli Ulivi, lotta il bitonto, comanda per larghi tratti il gioco, riapre una partita che sembrava sigillata ma non riesce a completare la rimonta. Colpa anche di un picerno di alto livello. Sa far tutto la prima della classe, sa imporre la propria personalità, sa essere cinica in fase di finalizzazione, sa stringere i denti nei momenti di difficoltà nonostante una lunga serie di assenze su tutte quella di Bomber Santaniello. Sa meritarsi con i fatti i tre punti su un campo ostico e contro un avversario difficile da affrontare. Finale 2-1 per i Lucani che concludono con l'eccellente bottino di 7 punti, il trittico terribile, incluse le sfide contro Taranto e Cerignola. Titolo d'inverno strameritato, nulla da dire. Primo quarto d'ora di studio, poi è il bitonto che comincia a fare sul serio. Cross di Fiorentino, testa di Patierno, soluzione imprecisa. Quest'ultimo, servito da Padulano, non sa incidere con la soluzione acrobatica. Para, Coletta, poco dopo il quarto d'ora. Replica il Picerno, Langone non trova la zampata su invito di Tedesco. Dalla parte opposta, Patierno, cercato e trovato da Padulano, trova la strada sbarrata da Impagliazzo. Il parziale cambia intorno alla mezz'ora. Splendida l'azione corale degli ospiti che nasce da un pallone recuperato e si conclude con il destro a giro efficace di Vanacore. Lucani in vantaggio, Lucani che provano a sfruttare un momento di sbandamento di Nero Verdi. Fiorentino è bravo a chiudere sul Langone. D'Alessandro fallisce il bersaglio da posizione decentrata. Sussurto, grifato dagli uomini di Massimo Pizzulli. Prima del riposo, Padulano fa eruzione in aria avversaria ma il suo raso terra pecca in precisione. Bitonto 0, Picerno 1 all'intervallo. La ripresa si apre con una buona chance per gli ospiti che usufruiscono di una punizione a 2 in aria. Kosovan non la sfrutta. Esposito sugli sviluppi dell'azione colpisce il palo. Pizzulli cambia, fuori un esterno Turitto, dentro un altro riferimento offensivo centrale. Picci insiste però la capolista ma Tedesco e Langone non riescono a cambiare forma al punteggio. Poi cresce il Bitonto. Pericoloso Patierno, chiuso nella circostanza da un ottimo Fontana. Pericolosi i padroni di casa anche su due azioni nate da corner. Prima Biasson fallisce la stoccata da posizione favorevole, poi è Padulano a non sfruttare una buona occasione sul secondo palo. Di nuovo Bitonto, punizione di Picci, replica egregia e di qualità di Coletta. Nel miglior momento di Neroverdi però è il Picerno a raddoppiare. Vanacore fornisce l'assist. Tedesco fa centro con un rasoterra preciso al centimetro 2 a 0. I pugliesi provano subito a riaprire la partita. La punizione di Picci sbatte contro la barriera e il successivo tiro di Biasson si perde sul fondo. È rigore a 20 minuti dal termine quando il 20 Bitontino viene atterrato da Coletta in aria. Dagli 11 metri però lo stesso Picci calcia male e facilita la parata del portiere ospite. Altra ammazzata psicologica non indifferente sul morale dei padroni di casa che però a 10 minuti dal novantesimo accorciano le distanze con questo colpo di testa di Montrone. C'è tempo per la rimonta, ci crede il pubblico del Città degli Olivi. Padulano mira il primo palo, Coletta c'è. Patierno allo scadere non inquadra lo specchio. Succede poco o nulla nei minuti di recupero. Vince il Piccierno che conserva 5 lunghezze di vantaggio sul Cerignola e 6 sul Taranto. Il Bitonto alla seconda sconfitta consecutiva scivola in quinta posizione e si allontana dalle prime tre.